Questa seconda presentazione di Claudio Baglioni del Festival di Sanremo ha registrato anche quest'anno il record di presenze dei media. Il festival, le sue canzoni e le sue storie le raccontano tutti i media accreditati alla 69esima edizione che fa registrare un nuovo record di giornalisti, fotografi e operatori dell'informazione presenti a Sanremo 2019. 1.443 persone tra la sala stampa dell'Ariston Roof e la sala Lucio dall'Alpala Fiori. Una platea che porta il festival anche molto lontano, attraverso media australiani e canadesi, statunitensi, argentini ed ancora cileni e altri di molti paesi europei. All'Ariston Roof sono accreditate in tutto 259 testate con 525 giornalisti di agenzie, quotidiani, periodici e gli inviati di web, giornali, radio, tv e rubriche televisive. Insieme alla stampa estera che si fa sempre più attenta al festival e quest'anno tocca quota 48 testate stampa, tv e radio con 84 inviati. Presso la stessa sala stampa sono accreditati anche 120 fotografi e gli addetti stampa delle case discografiche di artisti in gara o ospiti al 69esimo festival della canzone italiana. Giornalisti, conduttori e tecnici dell'emittenza radio televisiva italiana e del web sono invece ospitati nella sala stampa Lucio Dalla, allestita al Palafiori, non allontano dall'Ariston. Qui lavorano 750 accreditati di 352 radio, tv e web sempre collegati in diretta audio-video durante le conferenze stampa ufficiali all'Ariston Roof. Nella stessa sala stampa si svolgono quotidianamente gli incontri con gli artisti in gara e i protagonisti del festival.